ciao ragazzi e benvenuti all'acquario di sofia oggi vi faccio un video flash flash perché appunto è solo un video di annuncio anche qui su youtube volevo annunciarvi appunto che saremo presenti io e davide alla fiera di cremona pets festival quando sabato 16 ottobre quindi non vi preoccupate se non mi trovate scrivetemi in direct io sarò sempre lì a controllare se appunto c'è qualcuno che vuole vedermi non vi preoccupate che tutti quelli che vi voglia vedere appunto ci saremo per tutta la giornata quindi ragazzi non vediamo l'ora di incontrarvi sarà veramente bello anche su instagram ho fatto un sondaggio e ho visto che ci sono delle persone appunto che ci saranno e quindi mi farebbe molto piacere appunto incontrarvi dopo aver visto sempre il rapporto appunto online non vedo l'ora che ci sia anche un rapporto umano sto preparando dei piccoli gadget tipo stickers da offrirvi quando appunto ci incontreremo ci aggiorniamo su instagram magari in giornata per chi non ha instagram mi potete trovare ovunque se lo sapete e mi potete trovare anche via mail se andate sulla pagina facebook c'è il telefono e quindi ragazzi ci troveremo un saluto e ci vediamo alla fiera ciao